Quelli del Tempio Senpò si sono allontanati dagli insegnamenti del Buddha. Hanno abbandonato la fede, seduti dalla ricerca dell'immortalità. Se ti cattureranno, nessuno può dire che cosa ne sarà di te. Faresti meglio a tornare per la tua strada. Vedo che hai deciso di proseguire. Pregheremo per te. È il minimo che possiamo fare. Il Monte Congo, in passato, era un luogo sacro dove i monaci buddisti conducevano la loro vita cercando di raggiungere l'illuminazione. Tuttavia la carne è debole e nemmeno le preghiere più sincere salvarono le loro anime dalla corruzione. Poniamo che per un fortuito evento i monaci abbiano scoperto un metodo per diventare immortali ed immaginatevi al posto loro. Continuare a meditare sperando di raggiungere l'illuminazione o vivere in eterno in questo mondo? Facile immaginare la loro scelta. Affrontando i vari monaci possiamo notare come essi siano infestati da mille piedi e cercheremo di capire cosa rappresentano. Nel folklore giapponese esiste una figura chiamata Mukade. Esse è un mille piedi gigante, talmente grande e potente da poter rivaleggiare con i draghi divini. Si narra che l'Homukade uccise dei cuccioli di drago divino e che successivamente fu sconfitto da un eroe. Detto questo possiamo avanzare due ipotesi. La prima prevede che l'immortalità dei monaci sia dovuta alle acque del ristoro derivanti dal sangue del drago celeste. I mille piedi potrebbero essere la manifestazione della corruzione delle acque entrate in contatto con i desideri distorti degli uomini. E simbolicamente assumono la forma dell'antagonista dei draghi divini, l'Homukade. Una sorta di punizione per aver abusato del potere delle acque. Coloro che cercavano la purezza dello spirito sono infestate da parassiti. Così come quelli che cercavano la forza perdono la ragione tramite gli occhi rossi e attaccano nemici ed amici. La seconda ipotesi prevede che l'Homukade potrebbe aver assorbito il potere del retaggio del drago dai cuccioli del drago divino uccisi nella leggenda. Quindi potremmo presupporre che i mille piedi possano essere utilizzati come vettore per l'immortalità senza dover passare dalle acque del ristoro. Qualunque sia la verità dietro i mille piedi possiamo chiederci se è davvero questa l'immortalità che i monaci stavano cercando. Tramite il tasto divino posseduti e successivamente quello del ritorno scopriamo che in realtà l'immortalità data dai mille piedi non conduce alla vera illuminazione. Solo il ritorno del drago divino nella sua terra d'origine è la via che comporta il raggiungimento del Nirvana. Gli esperimenti per la creazione dei bambini delle acque probabilmente sono iniziati dopo aver scoperto la verità sulle origini del drago divino. Creare un retaggio del drago artificiale da utilizzare come sacello per quello vero era l'unica via per raggiungere la vera illuminazione. Le acque del ristoro unite alla vita eterna dei maestri monaci erano l'ideale per iniziare a sperimentare e così il tempio del Buddha si trasforma in un tempio degli orrori. Vernero rapiti innumerevoli bambini finché una di loro non sopravvissa al trattamento. Questo tempio non è più un posto adatto alla gente per bene. L'erede divino è davvero venerato, ma venerato o no, l'uomo è sempre uomo. Oh, che stupido sono stato a non capirlo da solo. Non lasciare l'erede divino al suo destino, Atne. È troppo tardi per pentirsi se hai già perso tutto. I monaci sono stati corrotti dalla parte peggiore dell'umanità, ma saranno anche, in qualche modo, redenti dalla parte migliore della stessa. La fanciulla delle acque, creata dalle loro macchinazioni, ci condurrà a spezzare le catene dell'odio ed il ciclo delle rinascite, conducendoci al miglior finale possibile. Chissà, forse un giorno, il tempio Saint-Paul tornerà ad essere un luogo sacro, ma fino ad allora... Se il video ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti.